E qui abbiamo un giovane palestinese, Bassan, dei giovani palestinesi d'Italia. E un applauso, ragazzi. Ciao a tutti e a tutti. In questi giorni tutti i governi occidentali si stanno schierando dalla parte di Israele. Stanno difendendo un genocidio in atto. Stanno difendendo le bombe che vengono buttate sui civili. Stanno difendendo gli ospedali che vengono bombardati, pieni di civili. E non stanno neanche cercando di nascondere il fatto che quello che sta succedendo è un vero e proprio genocidio. È una pulizia etnica della Palestina e dei palestinesi.